La selezione azzurra, nazionale azzurra di tennis in seglia rotelle ha fatto tappa ad Arezzo. È una tappa di avvicinamento, ma intanto viene da chiedere come mai avete scelto le strutture aretine del tennis giotto? Beh, allora diciamo che non è la prima volta che io vengo qua, perché col giotto c'è un buonissimo rapporto e soprattutto c'è una relazione diretta con una delle giocatrici che per noi è di fondamentale importanza, che è appunto Giulia Capocci. Quindi quest'anno come federazione abbiamo deciso di avvicinarci sempre di più alle location dove i nostri giocatori si allenano per poter far sì che il nostro contributo sia sempre più fattivo per la crescita dei giocatori. E quindi abbiamo incominciato proprio da qua, visto che a marzo avremo le qualificazioni e i campionati del mondo, proprio della squadra femminile. Una tappa di avvicinamento quindi verso i campionati del mondo, qual è l'obiettivo dell'Italia? Allora, il nostro obiettivo in questo momento è qualificarci. Sarà una qualificazione impegnativa perché l'anno scorso è rimasta fuori l'Inghilterra, che ha due giocatrici dentro le top ten e quindi evidentemente è uno scoglio abbastanza importante. Purtroppo abbiamo il campionato del mondo in Italia, in questo caso devo dire purtroppo perché per noi sarebbe stato piacevole poter pensare di avere la disponibilità di una wild card per le ragazze per poter entrare direttamente in tabellone, cosa che purtroppo il regolamento non ci permette, quindi giochiamo e ce la guadagniamo sul campo. Le ragazze come hanno vissuto questi giorni ad Arezzo? Sono stati tre giorni intensi di allenamento, pensiamo, anche proprio in previsione mondiale. Assolutamente, diciamo che questo è un periodo un po' particolare dell'anno competitivo perché buona parte dell'attività si svolge dall'altra parte del mondo. Il calendario del tennis in carrozzina segue in maniera assolutamente parallela a quello del tennis in piedi quindi Australian Open in questo momento ha fagocitato tutta l'attività competitiva nella zona australiana. Quindi è un periodo di preparazione, un periodo che ci comincia ad avvicinare al periodo più importante di tornei per gli europei perché tutta la zona europea incomincia la sua attività tra febbraio, marzo e aprile e, ripeto, in più con l'obiettivo di prepararle in maniera adeguata alla qualificazione. Grazie a tutti.